Il sommario dell'odierna puntata. Buoni propositi in sanità per l'anno appena iniziato. Nuova sede unica per la ULS20 e pronto il progetto. Al fracastoro per capire le novità che ci attendono. Mangiare sano parliamo della conservazione del tonno sott'olio. Eccessi alimentari come rimettersi in forma dopo le feste. Neoplasie del colo retto, c'è la laparoscopia. Istruzioni per l'uso, ci chiediamo e rispondiamo alla domanda cosa fare in caso di errore medico. E infine a tavola come sempre per la ricetta della salute.